Gentili telespettatori, buona giornata. Siamo a Tagadà, televisione. Vittorio Sgarbi svela chi finanzia Ultima Generazione. Sono quegli ecologisti che cercano di attirare l'attenzione su di loro facendo i vandali. Sono ragazzini di vent'anni che vandaleggiano, non esiste vandaleggiano ma mi piace questo termine, ma a mi non si dice mi piace questo termine, vandalizzano le fontane, i monumenti creando dei danni economici ingenti e creando anche dei danni ai monumenti e poi anche dei costi per ripulirli ingenti che i giudici dovrebbero fargli pagare fino all'ultimo centesimo. Vedremo poi se la magistratura farà il suo dovere. Si sono presentati davanti al Palazzo Madama, la sede del Senato, hanno gettato acqua sulla facciata e si sono cosparsi di fango per protestare contro il presidente Ignazio La Russa che li aveva invitati ad andare a spalare il fango in Emilia Romagna anziché imbrattare opere d'arte e monumenti per richiamare l'attenzione sulla crisi climatica. Allora diciamo una cosa, meglio che vadano davanti al Senato coperti di fango che vadano ad imbrattare i documenti. Quindi è meglio così, meglio così, meglio che loro arrivino lì imbrattati di fango senza toccare i monumenti che invece andarli ad imbrattare. Ecco, pertanto se da adesso in poi dovessero fare queste dimostrazioni cospargendosi di fango, queste cose qui, va anche bene. Rientriamo nella manifestazione legittima. Ti vuoi ricoprire di fango, strillare? Fallo, fallo, ma non vandalizzare i monumenti. Ecco, quindi se dovesse essere così andrebbe anche bene. E il secondo blitz dopo quello della Fontana di Trevi. Si parla a Tagadà sulla sette, dove il critico d'arte Vittorio Sgarbi condanna questi già i gesti. Dice, sono vandalici e punibili. E ha ovviamente ragione, infatti vengono tutti denunciati. Prima o poi dovranno andare davanti a un giudice e il giudice gli farà pagare i danni che sono tutti poi contabilizzati. Chi compie, dice Sgarbi, questi gesti si sta rendendo conto di non essere popolare. Non è certo buttando il nero carbone vegetale nella Fontana di Trevi che ottiene il consenso. Sono impopolari, non creano simpatia. Poi Sgarbi dice chi c'è dietro questa ultima generazione e racconta che i miliardari li finanziano e loro eseguono gli ordini come se fossero picciotti, così da consentire alla grande industria delle rinnovabili di andare avanti. La conduttrice Tiziana Panella dice, ma chi sono questi finanziatori miliardari? Sgarbi dice, uno è getti. È accertato. I carabinieri devono risalire alla cupola che li comanda. Gli attivisti sono lì in maniera spontanea, non sono lì in maniera spontanea, sono indirizzati da una strategia europea, se non mondiale, per colpire alcuni luoghi simbolo. Siamo davanti a un piano di una vera e propria cupola che ha in mente un'azione per favorire il business delle rinnovabili. Allora, io su questo realmente non so se ha ragione Sgarbi, se non ha ragione, se siano finanziati da una cupola di energie rinnovabili che vogliono favorire le energie rinnovabili e non i metodi tradizionali. Può essere che ci sia qualcuno che finanzi questi gruppi, ma possono essere dei finanziamenti che arrivano da entità, da gruppi, da aziende, da miliardari favorevoli a combattere per il clima, o possono essere soldi che arrivano anche un po', come dice Sgarbi, da chi vuole favorire la produzione di energie in un altro modo. Beh, non lo so se... perché questi ragazzi finanziati... ma finanziati per fare che? Per comprare quattro barattoli di vernice o stampare quattro striscioni del 50 euro. Non mi sembra che dietro ci sia bisogno di chissà quanti soldi. Un gruppo come ultima generazione lo può finanziare anche una fabbrichetta con 40 dipendenti e un fatturato di qualche milioni all'anno, perché non c'è dietro tutti questi costi, non è un partito che ha le sedi, che ha... è propaganda eccetera eccetera, conferenze, viaggi internazionali. Sono dei ragazzi che oggi vanno alla Fontana di Trevi, domani vanno con un po' di fango a Palazzo Madama, l'altro giorno con uno spray. Insomma, non mi sembra che dietro ci sia una macchina economica, da poter immaginare chissà quali multinazionali. Questo è quello che vedo io. Poi magari Sgarbi ha delle informazioni che io non ho. Io ho delle informazioni che leggo sui giornali, lui magari essendo in politica e conoscendo un sacco di persone, probabilmente magari sa anche delle cose che noi comuni osservatori non sappiamo. Diciamo che lui è lì, è lì in politica, su seduto in Parlamento, noi siamo quelli che commentiamo quello che fa lui e gli altri seduti in Parlamento. Quindi diciamo che lui è un bel po' più avanti dentro le notizie, proprio partecipe delle notizie. Quindi quello che sa, probabilmente, ha un bel fondo di verità. Però, insomma, più di questo non è dato sapere. Sta di fatto che questi eco, chiamati ecovandali, potrebbero tramutare le loro proteste in proteste più indirizzate alla messa in scena teatrale piuttosto che rovinare i documenti. Volete stare tutto il giorno davanti al Palazzo Madama facendo un presidio fisso come Greta, vi mettete lì col cartello, gridate. Ecco, fate un presidio fisso senza dare fastidio a nessuno, senza bloccare il traffico, senza imbrattare i monumenti. Vi mettete davanti ai palazzi del potere, state sempre lì, vi tornate. E quella è una protesta. Cercate di avere degli spazi di visibilità nelle trasmissioni televisive, ma non essere invitati come perché invitiamo quelli che imbrattano i monumenti, essere invitati perché dovete dire la vostra sull'ambiente. Ecco, non chiamati perché imbrattatori di monumenti, ma chiamati per parlare di clima. Ecco, questo dovrebbe essere un cambio. Arrivederci a tutti e grazie.